musica bene a tutti ragazzi sono Giacron47 ben ritrovati su un nuovo video di Fortnite ragazzi oggi ragazzi facciamo delle altre partite quindi non perdiamoci in chiacchiere e incominciamo ok ragazzi siamo pronti manca un secondo via perfetto vediamo un poco dove possiamo andare bordo bislaco io diri di andare qua no qua questo qua questo punto qua mi sta piacendo perché là almeno credo che non va tanta gente quindi proviamo ad andare là quindi po 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 vediamo un po vai scendiamo dai vediamo un poco vi do la una casa vediamo se vabbè anche questa è una casa ma quella la mi piace di più con il mio super paracadute a forma di pesce morto possiamo chiamarlo così oplà olè benissimo scesi olè subito un bel fucile tazzato due no basta uno e anche un bel tesoro ragazzi qui troviamo un bel pompa e siamo a livello 55 e anche una bella bevanda che mi beverò dopo perfetto io direi di scendere giù ho sentito degli spari per sicurezza io mi faccio un recinto e muori si vai grande ecco qua subito subito abbiamo fatto un kill allora io direi di berci la bevanda così in un modo che ci prendiamo le fascette anche se ne tieni 5 ma questo non fa niente perfetto siamo a posto ma che sto facendo perfetto ok possiamo scendere io pensavo che era sotto invece era cioè pensavo che era sotto e casa invece era sopra cioè mi voleva attaccare di spalle ma non ce l'ha fatta perché ti ho ucciso lo stesso mi dispiace allora sento un tesoro eccolo qua che bello un'altra bella porzione veloce ce la beviamo così siamo a posto no 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 a posto e prendiamoci qua il vampa fucilio non tanto mi piace ma quando è me lo prendo allora ragazzi poi qua altre munizioni un altro tesoro però basta perfetto possiamo fare un barbecue io direi invece di fare un bel murales murales chiamiamolo così in un modo marchiamo il nostro territorio cioè qua siamo passati è passato non devi ballare ecco qua qua è passato jack rob ecco qua ragazzi qui abbiamo trovato due bauli perfetto c'è uno con l'elicottero speriamo che non ci attacchi allora qua sto sicuro che appena apro ecco scenderà tutto giù vabbè lasciamolo stare quello intanto mi prendo un po' di legna e voilà ragazzi ho perso il mio tempo a distruggere il ponte così almeno non passano ok come sempre andiamo al castello ecco raga ne ho trovato uno vediamo perfetto vai grande in realtà lo dovevo lasciare anche un po' giocare perché non era chissà che però non fa niente allora travestimento perfetto carichiamo e ora facciamo finta di essere là trovando almeno qualche qualche bella arma diciamo qui è successo un casino allora intanto io mi tengo il meditic allora vediamo ok dai abbiamo trovato qualche roba io scambio questo perfetto anzi sai che ti dico perfetto ok ragazzi come ben avete visto ci hanno rubato l'elicottero lo volevo prendere io siamo rimasti fregati perfetto vai io prendo tutti i fucili silenziosi bene bene ecco qua ragazzi me la sono vista brutta ma ce l'abbiamo fatta ok io direi di medicarmi non è vero non è vero non è vero e lo togliono e sfrutto veloce 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 ma dai non è possibile eh si ragazzi vabbè perfetto ragazzi dai non decoraggiamoci riproviamoci ragazzi vai perfetto dai tutti che ballano e anche noi facciamo un bel balletto pronti via via ho detto eh tre due uno via ragazzi a me la fottoria mi piace perché alla fine comunque trovo delle armi che mi piacciono dai ovviamente tutti vanno su questa casa io ovviamente non è che so credino che vanno in quella casa io mi precipito su quell'altra casa c'è la invece non c'è di qualcuno no non è vero non ci arrivo e invece ci sono arrivato non avete capito niente ma ci siamo arrivati perfetto abbiamo già delle bende questo è molto molto buono abbiamo un fucile questo è anche molto buono c'è un fucile che a me raramente non mi piace vai pompa e si va a comandare un altro vabbè stanno mi traietta porzione vai 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 spacchiamo la macchina ok perfetto perfetto non ho trovato chissà che oh è appena morto uno si guida perché è arrasciato dalle armi per terra no che brutta la fiocina non mi piace per niente e voilà un altro tesoro perfetto e non abbiamo trovato chissà che ok ok bello ah mannaggia ragazzi vabbè e vabbè ragazzi ce la siamo non abbiamo fatto chissà che e siamo morti subito ragazzi mi dispiace ragazzi non fa niente quindi e vabbè ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto come sempre spolliciate e commentate vi ricordo di seguirmi su instagram me e christian dominic che saluto e saluto anche giovanni quindi da giacrom è tutto ciao ciao